Il presidente, il profuso, il secondo, Lidon Martigiani, il terzo e Gigi Podestano quarto che hanno speso risorse perché nessuno nasce arbitro di Serie A, qualcuno diventa, noi ce l'abbiamo, e Claudio Pieri che l'ha transitato dalla regione a livello nazionale, quel ragazzo di strada ne ha fatta tante, ripeto, ne ha fatte cento adesso, che è più lì di spesa. Vi ho voluto qua perché voglio che siano loro, io ti ho trovato già confezionato come prodotto, ho trovato un prodotto finito e adesso vorrei che fossero loro a consegnarti la targa per la tua centesima Serie A. Grazie. È una serata di anniversari questa sera e la mia carriera passa attraverso, come detto prima, le tue mani e ti voglio ringraziare. Allora adesso Emanuele mi darà una mano sulla visione dei filmati, allora cerchiamo di trasportare questa sala a Coverciano, stasera faremo tipo una lezione che facciamo noi quando ci raduniamo i giovedì a Coverciano, e cioè andiamo a vedere i filmati dei nostri, allora adesso lo faremo vedere dei filmati, io interromperò il filmato e coinvolgerò soprattutto i ragazzi più giovani per dare la loro impressione. Allora la cosa importante è che ognuno dica quello che gli viene in mente di dire. Come succede in campo ragazzi? L'importante non è fare giusto o sbagliare, l'importante è decidere. L'importante è non avere paura di decidere. Tanto ricordatevi sempre che l'arbitro ha sempre ragione anche quando sbaglia, perché non si può dimostrare il contrario e lasciate stare la serie A, lasciate stare la serie A, che si possono dimostrare i nostri errori solo perché si vedono dalla TV, ma i ragazzini cominciano ad arbitrare da giovanissimi fino alla serie C, la TV, non si possono dimostrare i nostri errori, perché non avviate paura di sbagliare e di decidere. Allora adesso Emanuele, partiamo col primo episodio e aspetta un attimo, tu rispondi quando io dico fermo, ci sii tu, ok? Il tuo nome è? Dicono, dico io, vai, il primo, il tuo ragazzo è in fondo, il tuo nome è? Dictor, guarda questo episodio Dictor, vai, buono, ferma, Dictor, qua cosa facciamo? intanto, intanto fischiamo, intanto prima cosa da fare è fischiare, quando si fischia poi dopo si prendono le decisioni, quindi calcio di punizione e poi provvedendo disciplinare? ammunizione, ammunizione, no perché l'ha detto lui, ammunizione perché Vittor? Comunque il giocatore sta andando sempre sulla parte laterale, allora Vittor, ammunizione perché non è una chiama occasione della retta, benissimo, se ci abituiamo a parlare così, anche perché dopo, se voi vi abituate a parlare, in campo è molto più facile per voi prendere decisioni, perché quando arrivate in corsa non è una chiama occasione della retta, beneggiarlo, è una chiama occasione della retta e rosso, vi diventa molto più facile poi lavorare con l'avvento in campo, eh? allora, fai pure andare fino in fondo a quest'episodio, l'assistente, questo è un dato di anello, allora, in questo campo, Misanelle è un paese militare, quindi in questo stadio l'auricolare non funzionava, allora, forse questo non è neanche fallo, però ferma pure, volevo fare una premessa, è stato militare, il campo schermato, gli auricolari non funzionano, però quando è che ce ne apportiamo? Quando entro in campo, scriviamo le squadre, salutiamo, gli assistenti vanno contro le porte, e io gli dico, a posto ragazzi, cominciamo, silenzio, non funzionano gli auricolari, benissimo, non è che l'arbitraggio è nato con gli auricolari, quindi, quando mi sono accorto che l'opposizione non riguarda, cioè praticamente, al fischio, alla prima azione, che la palla si è avvicinata ad un assistente, all'altra, ho dato le indicazioni che dà un risone, se il fallo è dentro l'area di rigore, la bandierina la metti in mezzo alle gambe, e poi corri verso il vertice dell'area di rigore, se il fallo è fuori dall'area di rigore, me lo alzi e ti fermi, avete visto Roberto cosa ha fatto qua, alza la bandierina e si è fermato, perché se io avessi avuto dei dubbi, fischio, quando l'assistente che si ferma, bene, calcio poi inserlo fuori, se invece Roberto tagliava, andava verso l'area di rigore, calcio di rigore, considerazione a parte l'assistente corretta, poi, se c'è da buttar fuori un giocatore con la manina così, il cartellino giallo così, e basta, non è che l'arbitraggio adesso ci siano cose così difficili, due minuti date a disposizione di fare la partita, però ricordatevi sempre ragazzi, che gli arbitri siete voi, dovete decidere voi, anche se sbagliate, perché? Perché nella mia piccola esperienza, quando ho sbagliato con la mia testa mi sono migliorato, quando magari ho sbagliato aggrappandomi all'aiuto di qualche altro, non ho imparato niente, perché non si impara niente, è come quelli che vanno a scuola e copiano, si prende il 6, però tu non hai imparato niente, rimani un sonoro, allora ragazzi ricordatevi, sbagliate, ma sbagliate con la vostra testa, ok? Ok, vai avanti con il pilota e segua in tempo. Buongiorno si cavorà la sanzione disciplinare non prescinde tanto dal fatto che ci sia l'opportunità di segnare una rete a tal proposito mi è piaciuto che tu abbia ribaldito chiara opportunità di segnare una rete quindi segnare opportunità è probabilistico chiaro significa che segna un gol questo è importantissimo il portiere che affronta un avversario lo fronteggia quindi non c'è un'azione gravemente sreale se lui affronta il calciatore che gli viene incontro se invece anche se non ci fosse se lo ha chiamato opportunità di segnare una rete attenzione lui lo appiona da dietro da dietro lui l'assanzione disciplinare può assumere un altro aspetto o no? ascolta allora gli aspetti sono questi o lo butti fuori per condotta violenta o per fallo grave di gioco o per condotta gravemente sleale punto il regolamento non è che prevede che il giocatore in questo caso può andare fuori per altre cause condotta violenta condotta gravemente sleale o fallo grave di gioco ok in questo caso che cosa ravvedi? fallo violento? no fallo grave di gioco? no condotta gravemente sleale? no neanche ok perché la condotta gravemente sleale si divide in due poi evita la segnatura di una rete quindi il giocatore che con la mano toglie il pallone nell'area di porta o evita la chiara opportunità di segnare una rete non c'è scritto se arpiona se stratona se sgambetta ok perché? perché rientrano i falli in questo caso non è cartellino rosso perché non è una chiara occasione da rete bene io prima ho detto a Niccolò mi sembra se il pallone si ferma questa si trasforma in una chiara occasione da rete perché il giocatore senza il fallo del portiere ha il possesso del pallone non è quindi condotta gravemente sleale rosso allora scusami ti faccio un'altra domanda tu non decidi immediatamente io sì che decidi immediatamente aspetta se tu osservi che il pallone si ferma tu osservi tutta una dinamica di un avvenimento ed è trascorso un lasso di te ma non è un'altra domanda ma non è anche il pallone ma non è un attore ma non è un attore il regista no per decidere è stato facile perché la palla va lunga bene, fischio munizione se la palla si ferma te ne accorgi nei momenti in cui fischi e nei momenti in cui io fischio la palla si ferma, anzi è che la ferma è sempre stato un tinettissimo, la televisione fa vedere che era il gioco di una virgola mi sono sempre chiesto, è una mia cosa perché non so come funziona ma l'osservatore che deve prendere un abito di serie A, che deve giudicare anche gli assistenti di cosa può parlare sui episodi talmente? non può un osservatore entrare nello spogliatoio e dirti che era fuori gioco i 3 cm senza, aspetta, senza dirti guarda, è inevitabile, ci sono degli stadi come San Siro che mettono l'osservatore oppure anche a Roma, che l'osservatore basta che alzi agli occhi così c'è una televisione grande così, fanno vedere gli episodi è impossibile che l'osservatore entri poi nello spogliatoio e dici guarda, oppure o non ho visto perché sono in una posizione che non mi ha fatto vedere oppure si guarda e l'ho visto cioè molto candidamente ti dico si guarda l'ho visto e non riesco neanche io a capire se era buono o meno però lo segnala nella relazione come episodio dubbio lo segnala nella relazione come episodio dubbio è quello che lascia la commissione il decidere ma su episodi del genere, di un centimetro, due, tre, quattro, dieci la commissione, o chi per essere, di questi episodi qua se ne fa un baffo perché non sono quegli lì gli episodi da andare a vedere gli episodi su cui dobbiamo lavorare adesso tu parli del episodio del fuorigioco non era proprio per sapere come funzionava il punto del rapporto no, non viene neanche considerato il fuorigioco non è neanche se lo alza o non lo alza non viene mai considerato un lavoro mai perché onestamente non c'è normale ma non si mi può neanche parlare quella che vediamo è la tv è un'altra parte due allora la prima è di carattere applicato e sociale io sto leggendo qua sul sito la tua sezione un po' la tua storia e dice che nelle sue prime esperienze a regione se Daniele non riesce subito a farsi capire complice del servizio militare la sua crescita è rallentata ma non era quello? no, io volevo sapere se c'è stato un momento nella tua carriera soprattutto all'inizio visto che ora sei uno dei primi arbitri al mondo nel senso sei prima fascia UEFA se c'è stato un momento in cui volevi mollare tutto e se c'è stato come l'hai superato? guarda, qua Claudio verrà da ridere quando sono tornato dal militare io non volevo più arbitrare perché sai sono andato via militare a diciottenne e al militare si vedono tante cose si vede il mondo al servizio militare però se ho imparato diciamo a rispettare un po' le regole è stato proprio al servizio militare perché al servizio militare dovevo dire sì anche quando volevo dire mai il servizio militare mi ha insegnato tante cose quando sono tornato dal militare visto che mi è venuto da ridere quando hai detto che hai affrontato delle difficoltà sì, perché chi è che non affronta delle difficoltà? io sono convinto che la categoria più difficile da venire fuori nell'arbitraggio è la regione è venire fuori dalla regione perché io credo che il presidente regionale abbia un grosso compito anzi uno fosse dei compiti più difficili che può decidere il futuro o meno di un arbitro perché vieni fuori dal C.R.A. poi vai a livello nazionale un arbitro che non era tanto bravo al C.R.A. può diventare poi l'arbitro di Serie A perché io al C.R.A. il mio C.R.A. allora Michele Buso mi disse guarda che tu sei ancora acerbo su tanti aspetti devi migliorare però secondo me se trovi la tua caratura il tuo modo riesci a trovare un'inquadratura migliore magari riesci a fare qualcosina di buono volevo smettere tornato nel militare volevo smettere ho cominciato ad arbitrare in seconda e prima categoria non avevo diciamo quello sprint di voler continuare ad arbitrare magari sai le difficoltà erano gli amici le compagnie se andavi in giro a fare festa e la sera io il sabato sera dovevo andare a dormire presto perché la mattina dovevo partire prendere la macchina a fare 300-200 km ad arbitrare e mi pesava però ad un certo punto ho dovuto fare una scelta se pratichi qualsiasi tipo di sport o lo fai bene oppure ti tiri da una parte cioè io ho deciso di continuare perché subentrano i presenti in sezione subentrano gli amici che dicono Daniele prova a tenere duro prova a fare ancora qualche sacrificio in più perché evidentemente non avevo non stavo facendo i sacrifici sufficienti ho fatto qualche sacrificio in più mi sono applicato di più ho voluto con la testa da montanaro che ho io provare a dire ma il mio primo raduno è la Candiglia quando arrivai c'era in fianco a me vuoto c'era Luca vuoto di Livorno e mi ricordo con Giorgio Gobo di San Donato mi dice ma questo qua è la faccia seria cioè io guardavo tutti i miei colleghi della Candiglia li guardavo in faccia e dicevo quello lì arriva in seria quello lì arriva in seria no quello lì è una pipa li guardavo in faccia perché erano inquadrati e era dentro di me scattata la Candiglia dicevo ma io che sono in meno di questi che cosa ho io in meno di questi devo provare a diminuire il gap da questi personaggi da questi già uomini già formati già che venivano da altre regioni sai perché poi Claudio mi insegna ci sono regioni che si muovono magari ti chiami? mi ha detto che hai quindici anni e da quanti arbitri? eh mi stai divertendo mi piace dimmi come mai sono due settimane che non ti alleni? e dici e dici e dici e dici a tua madre perché lo so che invece vai ad allenarti fai 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 tue fai fò fai 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 Andrea, e tu le prime 7, 8, 15, 20, 25 gare, 30 di Serie A, perché poi cominciano a conoscerti dopo le 25, 30 gare di Serie A, cominciano anche forse di più, ha avuto le sue difficoltà, come le ho avute io, a impormi, a farmi conoscere, a far capire ai giocatori che tipo di arbitro siamo, perché ho avuto le difficoltà, adesso a volte, io mi alleno con Sebastiano Perluzzo, nella mia sezione, allora a volte lui mi dice, cavolo, ma migliaccio del Palermo con te non protesta mai, com'è, ci prova sempre, e io gli dico, è tutto normale, è normale, si chiama gavetta, che se non si fa la gavetta su tutte le categorie come abbiamo fatto noi per arrivare in Serie A, come è stato facendo gli altri, senza la gavetta non si va da nessuna parte, perché l'esperienza non si compra da nessuna parte, quindi adesso se i giocatori, qualche giocatore, ci rispettano di più, è solo per l'esperienza o per le capacità, per carità, perché tra virgolette bisogna usare le capacità che abbiamo avuto noi per farci conoscere, perché ricordati che quando tu esci dal tuo spogliatoio, tu ti chiami, sai cosa dicono le squadre Fabio? Quando tu esci dal spogliatoio che hai fatto l'appello, la prima cosa è quando tu chiudi la porta, se ti fermi, appoggi l'orecchio sulla porta, parlano di te, si Fabio, non ti che mi guardi così, parlano di te, lo sai perché? Perché se tu sei già stato in quel campo ad arbitraria, dicono, oh occhio, questo qua non vi vale, eh, oh occhio, l'allenatore dice, oh occhio, non protestare oggi, questo qua che manda via, oppure, oh con questo qua si può fare tutto oggi perché tanto, quindi, voi avete, no no, voi non dovete regalare niente a nessuno, soprattutto quando vi trovate ad arbitrare ragazzi, voi giovani, le seconde e terze categorie, noi più vecchi, i 35 anni, i quarantenni che vengono giù dalle categorie superiori, no, che cercano di mettervi in difficoltà, fatti chiari dall'inizio, sapete perché? Perché vi serve per le partite che andate ad arbitrare dopo, quando ci tornate, se qualcuno vi offende, se qualcuno vi protesta, rosso per l'offesa, protesta giallo, seconda protesta, secondo giallo, rosso fuori, perché la volta che tornate sono i primi che non vi creano problemi, questo succedeva anche a me, allora, grazie, le prime gare di 6A, io mi ho trovato la prima volta sotto a San Siena a fare il Milan, in 1.000 a Siena, il primo ammunito è stato Maldini, ok? Allora, io fischio, fallo, tiro fuori il giallo, arrivo sul posto, questo si alza e Maldini alza il giallo, perché io avevo già deciso che era da ammunizione questo fallo, non importa il colore che era la maglia e neanche di chi era il giocatore, lui mi ha protestato, mi ha detto, stasera vedremo le immagini e cose varie, e io gli ho risposto, sai, io abito in montagna e non ho la tv, non mi interessa! dovete sapere, dovete sapere che non c'è stata partita dopo, che io sono tornato a fare il Milan, o a Milano, o fuori, che Maldini non mi abbia aiutato, mi ha sempre aiutato! magari a voi, magari a voi, magari a voi, perché i giocatori, i compagni di squadra e gli avversari vedono queste cose qua, perché il capitano del Siena mi dice, cavolo da, hai ammunito Maldini? E cosa vuol dire ammunito Maldini? È uno degli unici? Puoi sbagliare la coincide, ancora, tecnicamente, ma comportamentamente, non puoi sbagliare, ma questo è un aspetto comportamentale, se tu risparmi qualcosa a qualcuno, poi ti vengono a chiedere il conto gli altri, quindi non regalate niente a nessuno, regalare vuol dire sbagliate ragazzi, sbagliate! Non abbiate paura di sbagliare, dubbio tra giallo e rosso, fate rosso, vi diranno che siete troppo pervalosi, vi diranno che siete troppo severi, meglio! Cosa fa? Cosa fa? Cosa fa? Cosa fa? Grazie a tutti Daddy cool Daddy, Daddy cool Daddy, Daddy cool Daddy, Daddy cool Daddy, Daddy cool Grazie a tutti